sono rimasti in 30 e adesso sarete voi a scegliere i sei finalisti di up to you il primo contest teatrale italiano il primo contest trasmesso su un sito avevamo chiesto ai ragazzi italiani under 35 di raccontarci la realtà del paese non attraverso l'informazione come facciamo noi ma attraverso le loro storie le loro narrazioni le risposte sono state tantissime adesso abbiamo i 30 finalisti voi dovete scegliere i sei che andranno sul palco dei cantieri delle ogr il 14 di aprile sarà la prima serata delle finali la seconda invece sarà il giorno dopo il 15 aprile al teatro carignano con i sei finalisti scelti invece dalla giuria diciamo dei professionisti dello spettacolo guidati da giacomo poretti del trio aldo giovanni e giacomo già 5.000 persone si sono iscritte per votare per scegliere voi potrete farlo da subito abbiamo scoperto in questo periodo una generazione che ha voglia di mettersi in gioco molto lontana da quella che viene raccontata troppo spesso di una giorno di una generazione indolente e sdraiata noi abbiamo scelto anziché di parlare un'altra volta dei giovani di lasciar parlare i giovani e loro hanno dato delle risposte eccezionali stare a voi a questo punto dipende decidere se tra quei sei finalisti ci saranno le storie di chi racconta la società da una cucina di chi racconta l'immigrazione o la fuga dei cervelli come ha fatto un magazziniere che sta a londra sarete voi a scegliere se sarà una sala operatoria oppure a vincere un immigrato che fa la parodia del lavoro rubato sarete voi a dirci chi dovrà stare su quel palco noi siamo anche molto curiosi di vedere se ci sarà qualcuno che vince il doppio palco se ci sarà qualcuno che è stato scelto dalla giuria popolare e dalla giuria tecnica diciamo la giuria dei professionisti intanto io faccio un imbocco al lupo a tutti e vi chiedo di votare e di scegliere chi ha più talento